V-TREM Dunque, l'ultima installazione della telecamera all'incrocio via del Marucco è l'ultima di una serie programmata già durante 2018-2019? Sì, è l'ultima. Con oggi abbiamo terminato l'installazione delle 21 telecamere di videosorveglianza di contesto e delle 9 telecamere di lettura targhe. Il sistema OCR ci consente di verificare se un veicolo in circolazione è coperto da assicurazione, di revisione o se è provento di furto. Le targhe vengono tenute in un registro, sono visionabili in qualunque momento da parte nostra sia per operazioni di PG sia per controlli di polizia stradale. Allora, possono essere utilizzate per combinare in murte soltanto le telecamere Selea e solo alla presenza della nostra pattuglia, quindi non dal remoto e non successivamente. Sì, prossimamente verrà montato lo stesso sistema di videosorveglianza sia di contesto che lettura targhe in via Dertiglio, in prossimità dell'area del Boccaccio. Voi avete un monitor dove visionate naturalmente tutto quello che accade nelle installazioni. Nel caso in cui, che cosa accada? No, allora, noi estramoriamo le immagini in caso in cui ci siano denunce oppure nel caso in cui c'è da fare delle ricerche per incidenti o verifiche particolari di PG, come può essere un'occasione di furti in abitazione o altri tipi di eventi comunque relativi all'attività di polizia giudiziaria. Quindi la multa come può essere combinata? Solo fermando il veicolo? Solo fermando il veicolo, nel senso noi facciamo dei posti di controllo in prossimità della telecamera di contesto, la pattuglia ferma il veicolo che viene segnalato irregolare e viene contestato direttamente il verbale al trasgressore. Che territorio è Calcinaia e Fornacette? Tranquillo? Abbastanza tranquillo, diciamo che non abbiamo le problematiche di avere una stazione vicino magari, che quindi porta un determinato afflusso di persone, comunque un territorio momentaneamente ancora sotto controllo. Mi Trem